Riprese a 2.1, categoria 55 kg, del team TMA, mettere col maestro Nico Fiorucci, Sara Wetteri! All'agosto, Sara Wetteri! La sua ospirale è di Wettero Spirit di Giuseppe Zabelli, Signora Giustini! Rapporto Spirit di Giuseppe Zabelli, Signora Giustini! La sua ospirale è di Wetteri! La sua ospirale è di Wetteri, Signora Giustini! La sua ospirale è di Wetteri, Signora Giustini! La sua ospirale è di Wetteri, Signora Giustini! Inizio prima ripesa! Grazie a tutti. 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 Fine seconda ripresa. Grazie a tutti. Inizio terza ripresa. Grazie a tutti. 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 Un applausi a tutti. Grazie, grazie, vice, l'eccolo blu, Simona Tadini!